Noi saremmo disposti anche a tollerare l'integerrimo rigore e legalità di una maggioranza che opera in questa maniera, solo che dovreste farlo anche con, cominciamo a elencare, non me le ricorderò tutti forse, un sottosegretario alla cultura accusato di aver trafugato un quadro, un ministro che stoppa i treni a suo piacimento, una ministra del turismo che non paga i suoi dipendenti e ha un macello nelle sue aziende che neanche si capisce, un indagato per corruzione ogni paio di giorni, l'ultimo è il governatore della Sardegna, i deputati che sparano a capodanno insieme ai sottosegretari dopo aver rivelato dei segreti, questo siete, quindi cosa chiedete, rigore e legalità, guardatevi in casa e smettete di fare la morale. Grazie, onorevole Toccalini, a facoltà di intervenire.